Siamo in territorio francese, siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma poca roba. Abbiamo avuto qualche piccolo inconveniente nel cercare un distributore al confine. Comunque siamo in prossimità di Grasse e poi tiriamo su per il canyon del Verdun. Come moto siamo arrivati tutti, quindi siamo al completo, 28 persone. Siamo belli Gagliardi, il rumore è bello alto, siamo abbastanza carichi, anche se chi parla ha esagerato a pranzo, carico ma anche leggermente appesantito. E quindi ci rivediamo poi dopo quando arriviamo sul canyon. Non vediamo l'ora. Dai! Dai! Non vediamo l'ora! Ciao! Ciao!